L'aviazione israeliana ha compiuto un nuovo attacco aereo in Siria venerdì mattina. Nell'operazione sono stati uccisi a bordo di un veicolo almeno quattro individui che secondo Tel Aviv facevano parte di un commando del Jihad Islamico responsabile del lancio dei razzi giovedì sulle alture del Golan, formazione sostenuta dall'Iran. Sono stati 14 i siti colpiti dall'esercito israeliano in Siria in risposta ai quattro razzi lanciati nel nord del paese. Zahal sostiene che gli ordigni caduti sul proprio territorio sono stati pianificati dal capo del Dipartimento palestinese della forza Quds iraniana Saeed Izdi che sarebbe coinvolto nel contrabbando di armi in Siria e Libano. Di tutto questo ne approfitta lo Stato Islamico che continua a espandersi in Siria. Gli uomini del califato hanno distrutto con le ruspe il monastero cattolico di Sant'Elihan, postando le immagini. La popolazione del luogo dove per secoli hanno coabitato musulmani e cristiani è stata deportata a Raqqa, attuale capitale dei territori conquistati dalle truppe di al-Baghdadi. Questo, mentre all'altro capo del paese, la Turchia, costruisce un muro in funzione anti-ISIL, una barriera di parecchi chilometri formata da blocchi di cemento, alti 3 metri e pesanti 7 tonnellate.